Una notizia che ha colpito tutto il jet set indiano. I media locali riportano che a Bengaluro, capitale dello stato indiano meridionale di Karnataka, si è tolta la vita una delle attrici più promettenti di tutta la scena indiana. Si tratta della 25enne Souiyana. La giovane ha deciso di togliersi la vita nel suo appartamento dopo aver scritto una toccante lettera ai suoi cari chiedendogli perdono per quanto stava commettendo spiegando che si trovava in una grande situazione di disagio. La 25enne era una vera e propria celebrità in India perché aveva recitato in numerose serie tv e film. Il successo così grande e la paura di non riuscire a farlo durare negli anni sarebbero state la causa di una forte depressione che poi è sfociata in suicidio. Grazie per la visione!